Ciao a tutti ragazzi, sono Sara la kitesurfista, oggi il video lo faccio dalla mia furgo, qui dove lavoro nel parking e sto per andare in acqua a fare un po' di wingfoil. È il mio day off, quindi sono qui a fare un po' di chilling, ho riordinato, ma non so se è il più possibile. Oggi voglio rispondere a una grande domanda che mi fate in moltissimi, online e offline. Sara, ma cosa inizio a fare? Kitesurf o wingfoil? Che dire, io vi direi entrambi, prima l'uno poi l'altro, perché sono dei sport fantastici da iniziare. Ma certo, non tutti hanno tempo, non tutti hanno budget. Quindi, quale dei due vi consiglio di iniziare? Quale scegliere? Dunque, secondo la mia esperienza, vi direi di decidere in base ai quattro seguenti fattori. Numero uno, il budget. La differenza non sta bene in quanto al tempo che ci si mette ad imparare questi sport, ma direi il budget. C'è poi il punto dove andrò a fare lo sport, ovvero le caratteristiche del mio home spot più vicino. Direi anche quanto poi voglio viaggiare per fare questo sport. E vi dico già che viaggerete un botto. Ovviamente sarete inganciatissimi da questo sport. Qualunque dei due decidiate di fare. L'ultimo fattore da decidere sarà in base a quanta action, quanta azione realmente state cercando in questi sport. Tra questi punti non inserisco volontariamente il fattore forma fisica, perché ritengo che questa non sia importante in nessuno dei due sport. In quanto sia il kitesurf che il wingfoil sono adatti a tutte le forme fisiche, che magari cambierà semplicemente il tempo effettivo della progressione, se sei uno sportivo o se sei un tipo super sedentario. In seguito vi spiegherò molto meglio questi punti. Chi sono io per darvi questi consigli? Sono Sarara, kitesurfista. Chi mi segue già conosce la mia storia, chi no, la potete vedere nella intro e nel mio sito, che vi linko in basso. Faccio il disegno kitesurf e wingfoil da un bel pezzo e ho girato un sacco di spot in giro per il mondo. Quindi in base alla mia esperienza spero di poter rispondere a queste domande. Quindi quale devo scegliere, il kitesurf o il wingfoil? Punto numero uno, il budget. Il costo effettivo dei corsi base, i corsi per principianti di kitesurf o wingfoil? Diciamo che il prezzo, siamo lì, non c'è tantissima differenza tra il prezzo del corso base di kitesurf e il corso base di wingfoil. La reale differenza la farà poi quando e se vogliamo acquistare il nostro materiale. Poiché il materiale da wingfoil è un po' più costoso, c'è poco da fare, il foil set soprattutto, la parte del albero alla frontale e stabilizzatore dietro, la parte diciamo del foil in sé, è molto costosa. Che sia in alluminio o in carbonio ancora di più. C'è da dire che in ogni caso adesso anche il wingfoil si è fatto ben diffuso e quindi ci sono un sacco di materiali usati. Come possiamo vedere su adesso wing.com, subito.it o il marketplace di Facebook. In ogni caso vi dico già che se avete il budget un po' limitato, nel futuro appunto di acquisto è meglio che vi lanciate sul kitesurf quindi. Perché il wingfoil sarà un po' più caro. Dico anche che l'affitto del wingfoil materiale è anche abbastanza più caro rispetto a un affitto di un materiale di kitesurf in generale in giro per il mondo. Punto numero due, l'homespot, quindi il punto nel mondo dove decidete di andare a fare più spesso questo sport, quello che magari è più vicino a casa vostra. Questo fa la differenza. C'è da considerare se l'homespot più vicino a casa vostra o dove vivete appunto si presta di più al wingfoil o al kitesurf per esempio. Questo potrebbe fare una grande differenza. Se vivete vicino a uno spot di mare piuttosto ventoso e con onda vi dico già che magari vi converrà a iniziare con il kitesurf. Il wingfoil potrebbe essere un po' più complicato lì all'inizio. Se invece uno è per esempio di Milano ed è vicino ai laghi di Como o Garda o in zone di montagna sarà un po' più facile forse fare il wingfoil. Perché spesso i laghi sono poco ventosi o meno ventosi o senza costa o grandi spazi per armare e lanciare un kite. C'è anche da notare che spesso l'estate in alta stagione il kitesurf è abbastanza bandito e proibito dalle spiagge europee per questioni di sicurezza. Invece il wingfoil e il windsurf sono abbastanza ammessi quindi non creano particolari problemi. Punto numero 3 da considerare nella scelta tra il kitesurf e il wingfoil direi i viaggi. Il kitesurf per viaggiare è sempre un po' più comodo e meno pesante. Ovvero quando già fai kite dovrai acquistare la tua attrezzatura se vuoi iniziare a viaggiarci e lo vorrai ad un certo punto. Dovrai acquistare un board bag così si chiamano questi affari qui detto anche il morto o il muerto perché sembra di trasportare veramente un cristiano. Dovrai appunto acquistare il board bag e ficarci dentro il tuo materiale magari due kite la tavola il trapezio la muta il poncio. Buttare tutto su bagaglio sportivo e volarci tranquillamente con un costo extra che spesso va in base al peso. Ecco con i kitesurf di solito i pesi sono abbastanza contenuti a meno che ovviamente non ti porti via la casa intera e quindi è un po' più economico il viaggio in sé. Diciamo che il wingfoil invece è già più ingombrante il materiale e spesso comporta più peso e quindi più soldi alla compagnia aerea. A meno che ovviamente non sei già un mega pro rider e vai via con una tavola da 40 litri che è super leggera e ci sta in poco spazio. Se girate invece in auto anche solo vicino casa occhio che se avete una smart o una 500 la roba da wingfoil è difficile che vi starà. Io tipo ho una furgo perché ho anche un sacco di giochetti e devo essere sincera sappiate che avete bisogno di spazio soprattutto per il wingfoil. Andiamo all'ultimo punto da tenere in considerazione quanta action, quanta effettiva azione vuoi e cerchi in questi sport. Sia il kitesurf che il wingfoil sono entrambi sport d'azione quindi diciamo che in poco tempo arrivi in entrambi i casi a fare i primi salti, evoluzioni, rotazioni e svariate cose tipo board off. E chi più ne ha più ne metta in realtà potrai stare avanti per ore a parlare di questa cosa. Ma sintetizzando se sei un tipo che cerca davvero tra adrenalina pura e azione ti consiglio di iniziare col kitesurf perché il tempo di progressione arrivare a fare cose abbastanza spericolate e saltoni è molto più corto. Il wingfoil certo lo puoi fare assolutamente vedi che ci sono ragazzini oggi che fanno delle cose allucinanti con il freestyle però è molto più tecnico e ci metterai molto più tempo. Oltre che spaccherai un sacco di wing e te lo dico già quindi ti direi se cerchi adrenalina pura datti pure al kitesurf e il wingfoil è un po' più chill e ci metterai più tempo a fare cose strane. Spero di avervi delucidato sulla vostra scelta in merito a questi due sport e di aver risposto a questa domanda che spessissimo vi viene fatta. Per qualsiasi altra domanda ci sta il form in basso e scrivetemi pure, contattatemi senza problemi. Se avete altre cose da dire scrivetelo nei commenti. Non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale per stare sul pezzo sui prossimi video e magari attivare la campanellina o darmi un like o un dislike o quello che vi va. In ogni caso da tarifa è tutto e vado a navigare mi sa. Ciao benito. E ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.